Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento col Meteo di TV6. Nel corso di questo mercoledì 9 marzo avremo un graduale miglioramento del tempo su tutta la nostra penisola, soprattutto sul lato adriatico. Ancora qualche pioggia sparsa, qualche nevicata in collina la ritroveremo al sud, su Basilicata, Calabria e Sicilia. Altrove tornerà a splendere il sole, seppur con qualche nube di passaggio e soprattutto ancora con un po' di vento di tramontana che si farà sentire principalmente sulle coste adriatiche. In Abruzzo giornata decisamente più stabile rispetto ai giorni scorsi, avremo cieli sereni o poco nuvolosi, qualche densamento al mattino abbastanza compatto sulla Maiella, comunque sui settori montuosi però senza particolari fenomeni annessi, ha più qualche fiocco di neve solo in alta quota. Temperature in leggero aumento nelle massime fino a 7 o 8 gradi lungo i tratti costieri e le basse quote, minime molto molto basse, comprese tra meno 5 e 2 gradi. Si tratta di valori termici di almeno 8 gradi, inferiore alle medie del periodo. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.